Decreto Sostegni parla con Fartigianato Decreto Sostegni, la posizione di Fartigianato è chiara ed è positiva, è un buon punto di partenza per ricostruire però un sistema diverso da quello precedente. Esattamente, il Decreto Sostegni riteniamo sia un buon punto di partenza soprattutto se legato alle riforme, noi non possiamo più tornare come prima, dobbiamo diventare migliori rispetto a prima e per far questo dobbiamo rilanciare il Paese. Per rilanciare il Paese non è sufficiente il Decreto Sostegni da solo ma è necessario collegarlo a tutte quelle riforme che sono già previste anche a sostegno del PNRR, come ad esempio l'alleggerimento del fisco, l'abbattimento del costo del lavoro, la riforma giudiziaria e quant'altro, praticamente tutte quelle riforme che sono necessarie appunto per far sì che il PNRR possa effettivamente entrare in vigore quanto prima. Quali sono i punti di questo decreto che vi convincono a patto che le riforme vadano in porto? Allora, intanto partiamo subito dai sostegni. I sostegni dati in forma automatica a chi ha già ottenuto la prima tranche va benissimo e va benissimo anche la parte che riguarda il conguaglio poi una volta visti i risultati economici e quindi di bilancio delle varie aziende, in modo tale da poter fare un conguaglio e vedere effettivamente quante queste imprese potranno ottenere poi successivamente. Poi ci sono anche quelle che riguardano il credito d'imposta sugli affitti commerciali. In effetti è necessario alleggerire una serie di costi fissi che le imprese hanno sostenuto, stanno sostenendo, però che aggravano per quanto concerne la ripresa. Dopodiché c'è la parte della formazione, perché la formazione è una parte importante sulla questione della ripresa. Bisogna effettivamente creare una cultura imprenditoriale, ma anche la formazione delle maestranze, tutti quanti, per lavorare in un modo oggettivamente nuovo. Siamo ben felici, tra l'altro, delle somme stanziate a favore della scuola dei mestieri. A livello locale siamo contenti proprio perché se ne sente un gran bisogno. Come si conciliano queste strategie per la ripartenza con il rischio di esuberi che si profila all'orizzonte? Allora, intanto diciamo che il blocco dei licenziamenti viene mantenuto grazie appunto all'utilizzo della cassa integrazione, fermo restando che oggettivamente le imprese non possono rimanere imbrigliate per tantissimo tempo. Siamo oggettivamente preoccupati anche noi, ma non pensiamo che questo possa essere un grave problema. Il progetto AI compie 10 anni, Confartigianato mette in pali un premio speciale di 1000 euro per gli imprenditori artigiani del futuro. Il programma AI a Prato festegge i suoi 10 anni con un'importante novità. Confartigianato Imprese Prato ha messo a disposizione degli studenti un premio speciale di 1000 euro per l'idea di impresa che più di altre rifletta la dimensione artigiana. Il premio sarà assegnato a una delle idee imprenditoriali che saranno presentate dagli studenti il 9 giugno in Confindustria Toscana Nord durante la giornata delle idee di impresa AI di Prato. In questa edizione, organizzata dall'associazione Artes, sono stati coinvolti 100 studenti degli ultimi anni degli istituti superiori Convitto Cicognini, Dagomari, Gramsci-Kens, Livi e Brunelleschi di Montemurlo. Questo bellissimo progetto di ascoltare i ragazzi con progetti di imprenditorialità fa parte di noi, è il nostro bacino futuro, quindi siamo pronti ad accorderli un indomani come nuove imprese o come dipendenti. Quindi questi progetti qui sono cose che vanno assolutamente nello spirito della Confartigianato. Abbiamo ritenuto opportuno, giusto e doveroso dare il nostro contributo in denaro, in soldi, per cercare di motivare anche i ragazzi, perché i ragazzi vanno motivati, convinti come siamo, che lo spirito meritocratico, che è tipico dell'artigiano, sia quello che sia giusto anche passare come messaggio. In un percorso di 40 ore e 15 giornate, svolto in forma virtuale causa Covid, gli alunni hanno incontrato imprenditori e professionisti per imparare a ideare un'impresa. In gruppi di lavoro hanno poi creato un proprio business plan, che presenteranno di fronte a una giuria di esperti. Negli anni, questo è appunto il decimo anno, una data importante per noi, hanno poi anche sviluppato dei veri e propri progetti di impresa che poi hanno portato nella realtà. Quindi si passa da realtà come linee di moda, attività di ristorazione, fino a start-up innovative nel campo dell'intelligenza artificiale o del fact-checking. Piattaforma Civa, un webinar gratuito per fare chiarezza su obblighi, procedure e tempistiche. Un webinar rivolto ai datori di lavoro e a tutti gli operatori elettrici per parlare di Civa, il portale telematico introdotto nel 2019 per la denuncia di impianti di messa a terra e delle relative verifiche di conformità. Il seminario è organizzato per giovedì 10 giugno dal confartigianato Imprese Toscana, in collaborazione con Rima Ispezioni, e punta a fare chiarezza su nuovi adempimenti, obblighi e responsabilità previsti dalle nuove normative. La piattaforma Civa è una piattaforma telematica che è entrata in vigore per alcuni tipi di attività, quindi le denunce di impianto di terra, utilizzo una terminologia passata, datata, che occorre utilizzare appunto questa piattaforma in modo sistematico. Prima di allora c'erano degli invii che erano utilizzati con la posta tradizionale. Questa piattaforma Civa è entrata in vigore il 27 maggio 2019. Siamo orgogliosi di poter dire, perché lo abbiamo fatto, abbiamo mandato una circolare il giorno dopo, quindi il 28 maggio 2019, per informare direttamente tutti i nostri soci di questa nuova incombenza e di questo nuovo obbligo. L'incontro che facciamo il 10 giugno è uno webinar appunto destinato a tutte le imprese, quindi non soltanto agli operatori del settore, operatori elettrici, che è comunque auspicabile anche la loro presenza, la loro partecipazione, ma soprattutto tutte le aziende in modo trasversale, perché questo è un obbligo che è appunto in modo trasversale e ricade su tutti i datori di lavoro, che abbiano almeno un dipendente o un socio. Tutti sono obbligati a utilizzare questa nuova piattaforma, con questo nuovo sistema di invio telematico, nel caso in cui di impianti e verifiche degli impianti di terra e impianti elettrici. L'incontro, gratuito ma con obbligo di iscrizione, si aprirà alle 17.45 con l'intervento di Romano Mati, presidente regionale installatori elettrici, e sarà seguito alle 18 dal discorso di Emanuele Massaro, ispettore Rima. Alle 19.15 spazio poi al dibattito tra i partecipanti. Le verifiche devono essere effettuate esclusivamente da soggetti terzi, quindi non possono essere effettuate le verifiche successive, sto parlando, dall'installatore o dal professionista progettista, ma da enti terzi. Uno di questi enti terzi, che è la Rima, è l'ingegner Massaro, sarà il nostro relatore con il quale in collaborazione abbiamo organizzato questo webinar. È importante specificare che durante questo webinar saranno descritte tutte le varie modalità di accesso a questa nuova piattaforma, ma anche le modalità di esecuzione per poter evadere appunto questa pratica, che è importantissimo, perché molte volte succede che le persone che hanno provato ad accedere si sono trovate di fronte a difficoltà che erano soggettive. Bastava chiedere, bastava avere un consulente, e lo webinar è fatto per questo, e sarà una cosa assolutamente semplice e snella. Quindi partecipate numerosi in modo trasversale. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a Giovanni Corradi due ex dipendenti diventano imprenditrici e aprono un'attività propria in piena pandemia. Le ex dipendenti hanno avuto il coraggio e la passione per aprire un'attività a tutta loro, per di più in un periodo particolarmente difficile per l'economia. Si chiama Nemart Air Lab, il salone di parrucchiera che Elena e Matilde hanno aperto lo scorso dicembre in Via del Castagno, quando le restrizioni anticontagio in atto costringevano il settore alla chiusura. Abbiamo sfidato un pochino la sorte e abbiamo deciso di buttarci in questa nuova esperienza, per noi appunto completamente nuova, perché venivamo da un negozio dove eravamo solo dipendenti e ci siamo catapultate in una situazione diversa, però ci ha dato tanta soddisfazione, nonostante il periodo non fosse proprio il migliore, abbiamo un pochino spento il cervello, abbiamo detto buttiamoci e vediamo come va, quindi diciamo incruciamo le dita sperando che tutto questo possa andare a migliorare sempre di più e che non ci siano più chiusure, che insomma sono abbastanza pesanti per un settore come il nostro. Devo dire che sono contenta di come sta andando e non me l'aspettavo che andava bene così. Sì, si è avuto coraggio, cioè non ci si voleva aprire, però si aveva paura, poi ci siamo fatto coraggio e si è aperta questa attività. Questo è un segnale molto importante per tutta la categoria, ma direi per il mondo dell'impresa, perché due persone giovani che decidono in un momento di crisi come questo, perché l'apertura del negozio è di dicembre del 2020, proprio poco tempo prima della richiusura, quindi un messaggio molto positivo e noi siamo molto contenti di aver dato supporto all'apertura di un negozio come questo. Il periodo particolare ha creato difficoltà anche nell'allestimento del locale, tanto che Elena e Matilde hanno realizzato in proprio parte degli arredi, usando ingegno, manualità e materiali di recupero. Dopo mesi di chiusura il settore dell'acconciatura si sta riprendendo, ma le perdite di fatturato sono state importanti. Il settore, dopo una crisi abbastanza sostenuta dovuta alle chiusure del lockdown, si sta piano piano riprendendo. Purtroppo nel 2020 ha perso molto fatturato rispetto al 2018, al 2019, prima del lockdown. è un settore che ha sofferto, ma che sta piano piano cercando di recuperare terreno.